Siamo in via Corcioni, la segnalazione arriva da disabili che dopo aver percorso questo scivolo salgono questo manciapiede per poter accedere al negozio che si trova in questo punto ma vengono fermati da una catena e da piante ornamentali. Di conseguenza dovrebbero scendere dal manciapiede ma ovviamente non possono accedere comunque a questo negozio perché tornando giù percorrendo questo marciapiede dove molte carrozzine non riuscirebbero a passare da delle dimensioni che sarebbero di fronte ad un gradino insormontabile. La domanda ci pongono è perché si sia autorizzato o perché si consenta il blocco del marciapiede con queste fioriere e con queste catene dal momento che è il marciapiede stesso inaccessibile anche salendo dall'altro lato. Chi volesse andare in quel negozio non potrà mai farlo, almeno se si trova su una sedia a rotelle.